Buongiorno QuariNerd e benvenuti a un nuovo video! Oggi sempre da solo, sempre nel mio studio, riusciremo a portarvi un video assieme io ed Elena, ve lo giuro, ve lo giuro, ce la faremo, ma oggi vi tocca assorbirvi ancora a me da solo, che non so fare le intro e non so fare le chiusure, quindi iniziamo! Oggi voglio parlarvi del Kappa. Il Kappa è uno spirito giapponese simil tartaruga antropomorfa. Infatti ha il carapace da tartaruga, ha il becco da tartaruga, ha la pelle da tartaruga, anche di colore verde o bluastra, e in alcune leggende ce l'ha anche giallo, e ha la conca in testa che non è da tartaruga. Questa conca è il suo principale punto di forza e la sua debolezza più grande. Infatti se è riempita con l'acqua del posto in cui vive, lui ha la capacità di stare fuori dall'acqua, capire il giapponese, muoversi a una velocità sovrumana, avere una forza sovrumana, e tutto quanto, quello che di più pauroso potreste vedere in una tartaruga gigante che vi vuole mangiare. Perché sì, il Kappa mangia gli adulti, anche se non è il suo piatto preferito, il suo piatto preferito sono i bambini. E quindi sì, potrebbe uscire dall'acqua per mangiarvi, ma anche solo per farvi alcuni scherzi. Ma è anche il suo punto debole questa conca in testa, come vi stavo dicendo. Infatti, se riuscite a svuotargliela, lui perderà tutta la sua forza. In alcune leggende dicono proprio che non riuscirà mai più a muoversi. In altre che ve lo potreste fare amico. Nel senso che è lui che ve lo chiede. Se riusciste a svuotargliela la conca sulla testa, lui inizierà a implorare pietà. Perché sa che non ha più forze, non ha più possibilità contro una persona. E quindi vi chiederà aiuto, vi chiederà pietà, fino ad arrivare a farvi una promessa. Quella di servirvi per tutta la vita. Se voi arriverete a questo step, avete un K per amico. Ma come la si svuota la testa al K se appunto è un essere così più forte? Beh, non è semplice. Però lui è molto rigoroso, soprattutto dell'etichetta. Infatti K sono molto curiosi, hanno avuto molto... molta vita assieme all'uomo. Nel senso che sono stati molto nella comunità umana per imparare, per vedere un attimo come si comportava l'uomo, come era questo essere umano, insomma. E quindi ha imparato le etichette giapponesi ed è rigoroso su queste. Quindi se voi farete un inchino molto profondo da abbassare la testa in basso, tipo quando passa l'imperatore, per fare un esempio, allora lui si sentirà in dovere di darvi lo stesso rispetto e quindi si inchinerà e verserà tutta l'acqua che ha sulla testa. Ma non è molto facile. Intanto dovete non prendervi paura subito di lui. Lo dovete incontrare che non abbia fame, che non vi voglia prendere a salire e lottare come un lottatore di sumo, sport di cui sono molto fanatici. Sì, quindi non è facilissimo, però si può riuscire. e se ci riuscirete appunto lui perderà la forza, vi farà tutto quello che vi ho detto e vi chiederà infine di essere risparmiato e di diventare vostro schiavo sostanzialmente, perché poi vi farà la promessa di servirvi per sempre. è a posto. Se voi prendete l'acqua in cui vive e gliela versate sulla conca a vuota riempiendogliela, lui riacquisterà le forze ma non vi potrà più attaccare perché è sotto la promessa. È sotto la promessa di aiutarvi. Però non tutti i K sono così, anzi, nella storia come vi ho detto si erano integrati un po' nella comunità umana. Ma poi la loro indole di yokai li ha portati comunque a vivere presso i laghi e i fiumi dove stanno meglio rispetto che in una città. ma ci sono molte leggende in cui dicono che il K è un fenomeno nell'arte medica. Un fenomeno. Fra le varie cose che può avere insegnato all'essere umano c'è quella di guarire le fratture. Quindi la stecca, quindi tutto quanto ci possa essere dalla fase in cui ti fratturi un polso fino alla completa guarigione del polso stesso. Quindi sì, ci metto un po' di iodio, ci metto una stecca, ci mettiamo una benda e via, riposo per un po'. Allora i K hanno insegnato anche questo. Non sono tutti così malvagi da volervi mangiare assolutamente. Anzi, potreste anche trovarne uno così che vi voglio aiutare. Tra l'altro ci sono dei templi giapponesi shintoisti in cui il K è venerato come il dio dell'acqua. Quindi vengono fatte offerte, viene pregato, viene idolatrato come altri kami. e però quello dell'inchino non è l'unico modo per riuscire a scappare dal K. È l'unico modo per farvelo amico, quello sì. Però non è l'unico modo per riuscire a scappare. Se voi vedete che non riuscite a farlo inchinare allora bisogna darsi alla fuga. Per darsi alla fuga bisogna distrarlo in qualche modo. O batterlo semplicemente se vi sfida una lotta di sumo ok potreste riuscire a batterlo e quindi vi lascerà in pace ma dato che finché ha l'acqua nella conca ha una forza sovraumana non è proprio così semplice il metodo più semplice è avere con sé dei cetrioli che è il loro piatto preferito quindi gli lanciate un cetriolo e scappate oppure vi date la fuga prima ancora che lui possa apparire se sentite puzza di pesce marcio mentre vi avvicinate a un posto che sapete che c'è un fiume un lago ecco se iniziate a sentire questo forte odore di pesce non avvicinatevi al fiume al lago andate più avanti finché il tanfo non lo sentite più perché loro puzzano veramente tanto di pesce marcio e quindi se riuscite ad anticipare a posto non sarò io la vittima di questo di questo k bene questo è tutto quello che c'è da sapere principalmente sul k e quindi vi saluto a un prossimo video e lasciate un like un commento dite se conoscevate il k se volete conoscere anche altri aspetti o altri yokai di quelli più più famosi perché il k la kitsune o il tengu sono quelli più famosi e niente al prossimo video ciao ciao